Ci sono tante situazioni catastrofiche all'interno del nostro universo mondo, alcune delle quali sono conosciute e alcune sono molto gravi, in questo momento abbiamo di nuovo fasi di conflitto per quel che riguarda il Nord Africa, però ci sono alcune situazioni che non sempre vengono conosciute per quello che succede e quindi quando c'è la possibilità di avere un rapporto diretto, di sapere cosa sta succedendo e che cosa è successo e anche di dare una mano, perché no, anzi importantissimo dare una mano, sicuramente qualcosa in più si riesce a fare per vivere tutti quanti meglio e per fare in modo che un milione e mezzo di sfollati in questo caso e poi c'è il problema delle epidemie. Sto parlando di un ciclone che si chiama Idai, un ciclone tropicale molto potente che ha colpito le zone centrali del Mozambico e ha raggiunto anche Zimbabwe, Malawi e quindi è stato uno dei più devastanti negli ultimi vent'anni. Roberto Galante che già da anni lavora con l'associazione Basilicata Mozambico che ha sede a Matera e poi per quel che riguarda il Amunzuku Caina, me lo ricordo sempre questo termine, Roberto ha messo a punto dei progetti molto interessanti in una zona differente da quella che è stata colpita, però ovviamente l'emergenza c'è e ci sono rischi enormi. Benvenuto Roberto Galante, ogni tanto ci si vede, purtroppo questa è un'occasione luttuosa, quanti morti ci sarebbero? Morti ufficiali, qui bisogna sempre fare una differenza tra quelle che sono le morti ufficiali, ovvero sia riconosciute, e quelle che sono in realtà le morti reali. Ad oggi il bilancio delle morti è intorno alle mille persone, però c'è da dire che in Mozambico, uno, tante persone non emergono dall'anonimato, perché in tanti villaggi manca l'anagrafe, e due sono i corpi estratti. Il bilancio purtroppo si prevede, il bilancio dei morti sarà molto più tragico. Perché per ora siamo intorno alle mille vittime, per un bilancio provvisorio, però ufficiale, conclamato, potrebbero essercene molte di più. Ma qual è il problema principale? Perché il ciclone praticamente ha avuto una forza devastante, lo stiamo vedendo nelle immagini mentre parliamo, ha avuto una forza veramente di grande impatto, ha creato danni totali. Sì, la città di Beira, che è la seconda città del Mozambico, il porto più importante della nazione, è stata completamente distrutta. Distrutta le vie d'accesso, la città è rimasta isolata per tantissimi giorni, distrutta tutto ciò che è la rete idrica, la rete elettrica, palazzine. Dobbiamo anche considerare che le città africane, nel caso specifico del Mozambico, c'è un centro dove ci sono costruzioni, le periferie sono fatte di capanne, sono fatte di casupole, di capanne, che quindi hanno anche poca resistenza contro questi plagelli atmosferici. Il raccolto completamente distrutto, tantissime coltivazioni distrutte, tantissimi villaggi e paesi che non sono stati ancora raggiunti. Ecco, qui c'è un fatto intanto che è molto importante, è che c'è il problema delle epidemie. C'è un problema delle epidemie, sì, reale, che sta venendo fuori in questi giorni. Cosa è successo in pratica? C'è stato questo ciclone, ha devastato la città, ha devastato un territorio amplissimo, le piogge hanno continuato a cadere, a imperversare sulla regione per diversi giorni dopo il ciclone. A monte, nel Malawi, nel Zimbabwe ci sono delle dighe che stavano trascimando, per cui hanno aperto le dighe e tutto questo flusso d'acqua è arrivato anche a valle, peggiorando la situazione. Il problema è che i soccorsi sono arrivati con un ritardo notevolissimo. Non parlo di ore, ma parlo di giorni e di settimane. La popolazione è rimasta barbicata sui tetti, perché sotto c'era acqua, acqua alta. Sui tetti, tantissimi anche sugli alberi, senza cibo, senza acqua potabile, con pericolo di animali, anche animali feroci, coccodrilli, serpenti, siamo in Africa, che li assediavano. La popolazione chiaramente, per sopravvivere, ha dovuto bere l'acqua, l'acqua inquinata dai cadaveri, da batteri, dalla sporcizia, per cui si sono incominciate a diffondere l'epidemia. Ad oggi già abbiamo 1500 casi di colera, l'epidemia di colera è stata conclamata, il tentativo abbiamo medici. Ma anche tifo e malaria, mi pare. Ma anche tifo, malaria, altre. Insomma, una situazione preoccupante, molto preoccupante. Cosa siete riusciti a fare voi nel vostro piccolo, che è una piccola organizzazione, però che si distingue sempre per dare una mano? Al momento della sciagura, il 14 marzo, io ero a Maputo a seguire il progetto monzu cocaina, come ogni anno. La notizia dell'arrivo del ciclone già si conosceva da giorni. Solamente che in un paese africano non hanno la capacità di far spollare la gente, di avere una protezione civile, tra virgolette, efficiente e che sappia programmare. Ci trovavamo lì, all'inizio, le notizie che arrivavano non erano così catastrofiche. Sembrava pochissimi morti, le notizie dei telegiornali erano abbastanza, tra virgolette, ottimistiche, ma attraverso i social, anzi c'è da aggiungere che la linea elettrica era saltata, per cui non potevano nemmeno caricare i cellulari. Entro poco non si arrivavano più notizie, noi abbiamo dei referenti in zona, non riuscivamo più a contattarli. Una volta capito l'importanza di questa tragedia, le dimensioni reali, ci siamo attivati mandando 300 kg di riso e 200 kg di fagioli, oltre a vestiti, impermeabili e medicine. Ora abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi, ci vogliamo muovere su due livelli. Il primo è quello di affrontare dei bisogni immediati, quindi cibo, medicine, potabilizzatori per l'acqua, gruppi elettrogeni, autonomi. E in un secondo momento abbiamo avviato questa campagna, adottiamo una famiglia, ovvero sia una nostra collaboratrice volontaria, Lucrezia, è stata in quelle zone, ha lavorato e operato in quelle zone, ha fondato anche un'associazione e attraverso l'associazione siamo riusciti a dare delle borse di studio a studenti di famiglie bisognose. In questo senso l'adozione, insomma? Sì, noi vorremmo adottare una famiglia, ciò che riusciamo ad ottenere attraverso questa campagna, adottare una famiglia, dargli quei fondi minimi per rimettere in piedi una casa, ovvero sia una capanna, quelle cose basi per noi è un po' complicato capire, ma lì si tratta l'arredo su due pentole, un affadino di ferro dove accendono il fuoco, due stuoglie sul pavimento, ma hanno perso tutto, tutto, tutto. Quindi non hanno neanche quello. Cosa possiamo fare noi che siamo qui nell'Occidente, diciamo opulento, ma in crisi. E volevo continuare a dare i fondi per iniziare, ma anche per fargli continuare a studiare a questi ragazzi. Noi lavoriamo molto sulla formazione e pensiamo che sia indispensabile per qualsiasi possibilità di sviluppo, di affrancamento dalla povertà, da condizioni anche culturali molto precarie, studiare. Per cui abbiamo iniziato questa raccolta fondi, manderemo in sovrapposizione. Certo, metteremo in sovraimpressione il tutto. Cosa possiamo fare? Donare. Donare. Donare qualcosa. Bastano pochi euro ciascuno e riusciamo quantomeno il nostro obiettivo è adottare 10 famiglie. Benissimo. Quindi questo è praticamente l'appello che Roberto Galante a Monsucucaina, che conosciamo già da tempo, che sta lavorando nella zona di Maputo, ma che si sta interessando anche di soccorrere quelli che vivono in questa zona disastrata. Questa è la proposta, l'appello che rivolge a tutti quanti voi. Doniamo, donate, doniamo qualcosa, facciamo in modo che queste famiglie possano riavere quel poco che avevano prima, che per loro era indispensabile per poter vivere e riprendere una vita, non dico dignitosa, ma almeno una vita, perché in questo momento rischiano veramente moltissimo e ci sono moltissimi pericoli. Noi ringraziamo Roberto Galante per averci raccontato tutto ciò e nella speranza e al vostro buon cuore ci rivolgiamo e come al solito vi dico alla alla prossima!